Quindi possiamo riprendere la nostra prima giornata di laboratori di pratiche sociali con l'intervento di Claudia Balocchini. Claudia Balocchini è un avvocato, è un freelance fundraiser e è insegnante presso lo IED di Firenze. Ha un'interessantissima rubrica su Arti Boon e oggi ci parlerà di Network. Ringrazio davvero moltissimo la Arti, la Regione Puglia, Vessel. Anna mi ha introdotto con poche parole e devo dire che la ringrazio per questo perché così almeno mi ha dato modo di non essere troppo imbarazzata prima di parlare. Trovo questa iniziativa veramente interessante, non solo per le connessioni che si creano anche tra docenti, perché stamattina ho assistito a una lezione interessantissima di Emma Medina sull'arte utile e devo dire che ci sono venute in mente un sacco di cose, giusto o sbagliate che fossero, ma riescono veramente questi incontri a creare delle connessioni mentali e a farci conoscere quello che stanno facendo le persone in tutto il mondo, sempre più connesse, sempre più in network, sempre più cercando delle reti. Quella che è la mia intenzione oggi e domani è di spiegare che le reti non sono soltanto un fenomeno spontaneo e informale, ma un fenomeno che ha delle possibilità di diventare strutturato e strutturato in maniera efficiente. Oggi vi parlerò di tutte quelle che sono le modalità previste dalla legge italiana per creare un network e vi assicuro che ce ne sono, non è una poesia, non è un'immaginazione. Fare rete, anche se non sia un'impresa, è possibile, anche nel mondo no profit è possibile e adesso, ora come ora, oggi nel nostro mondo, ci sono veramente tante realtà che riescono nei loro progetti facendo rete. Devo dire che in questo momento storico fare rete è necessario ed importante. Trovo che farlo nella maniera giusta, nella maniera economicamente efficiente, legalmente più proficua sia importante. Ho scelto una foto molto strana in realtà perché a me piace molto Pino Pascali, so che è di Bari, è un artista di Bari, e mi sono ricordata che aveva scritto a Michelangelo Pistoletto il perché avesse scelto di fare come, diciamo così, aveva deciso di creare delle opere che avessero ad oggetto le armi. E Pino Pascali aveva scritto che in una civiltà di consumo le immagini assurgono falsamente a simboli e creano quel fenomeno tipico che definisco per retorica dell'immagine. Per questo ho scelto il cannone e la bomba, le armi. Esiste intorno ad essi tutta una rappresentazione simbolica che è la pittura figurativa utilizzata al massimo, deconnotando meramente l'oggetto. Tanto più il soggetto è avvolto in questo magma di retorica, tanto più per me è importante recuperarlo. Penso che il problema sia di ripulire l'immagine da qualsiasi attributo e simbolo, ricollocandolo nella sua presenza oggettuale. Quello che trovo importante di questa frase è che Pino Pascali abbia deciso di utilizzare ovviamente degli oggetti molto provocatori per ripulire e per in qualche modo sottolineare che c'è una retorica, una retorica dell'immagine. E quello che io trovo è che il non profit abbia una retorica ad oggi. Simboleggi qualcosa che è troppo retorico. E che abbia preso forse un'immagine che non è del tutto vera. O comunque che, a mia opinione, la mia opinione è che non sia del tutto giusta, del tutto corretta. Qual è la retorica dell'arte e della cultura? Innanzitutto che l'attività artistica e culturale non si deve mischiare con l'attività imprenditoriale. Intendiamoci. Io non sto dicendo che l'attività artistica deve avere un profitto, cioè deve essere lucrativa, nel senso di mettere in tasca dei soldi sempre e comunque. Sto parlando di attività imprenditoriale nel senso di costruzione efficiente di un sistema. Sto dicendo che un'organizzazione, per essere efficiente, per portare a termine in maniera compiuta i propri progetti, deve essere efficiente, deve essere costruita in un modo che abbia una qualche rispondenza con quella che è effettivamente la necessità, il contesto e, se volete, anche un po' il mercato, inteso in senso ampio, sempre ripulendolo anche lì dalla retorica dell'attività imprenditoriale to cure, quella che fanno le società di capitali quotate in borsa, insomma. In questo senso io trovo che l'attività artistica e culturale, fatta sempre dall'organizzazione no profit, ovviamente, debba essere un'attività che ha al suo interno un'organizzazione, dove ci sia un soggetto responsabile del progetto, un soggetto responsabile dell'organizzazione, che si sappia chi chiamare in un caso, chi è responsabile per i contratti e i contatti attivati dall'organizzazione, così come evidentemente sapere come vengono gestiti i soldi, pochi o tanti che siano, all'interno dell'organizzazione. Questo per me è strutturazione imprenditoriale di un soggetto e dobbiamo ripulire l'immagine dell'attività artistica come un'attività che non è imprenditoriale, cioè non è strutturata, non è organizzata. Buongiorno. Un'altra caratteristica della retorica dell'arte e della cultura, cioè di quello che, ripeto, a mio avviso è quella che è l'immagine un po' falsata delle organizzazioni culturali e delle organizzazioni artistiche, è che i soggetti no profit non possono avere un profitto, non possono avere un lucro. Ripuliamo anche questa impostazione. I soggetti no profit non possono avere un lucro nel senso che non possono arricchire le persone che ne fanno parte. Ma questo non significa che le loro attività non possano produrre un introito economico. È ovvio che quell'introito economico dovrà essere reinvestito nell'attività no profit, non dovrà arricchire nessuno se non la stessa organizzazione. Ma questo non significa che le attività di un'associazione, di un'organizzazione debbano andare sempre e comunque in pari, o ci si debba rimettere. Ma chi l'ha detto? Cioè, questa è una retorica dell'immagine del no profit, ma questo comporta che non ci sarà mai crescita. Perché la crescita strutturale non c'è se i progetti devono essere sempre comunque in perdita, se tutti hanno la percezione che nessuno ci guadagna. E' ovvio che non ci guadagna la persona che crea un soggetto no profit, se no non sarebbe no profit. Ma il soggetto in sé sì è come. Cioè, dobbiamo in qualche modo dividere l'immagine falsata che abbiamo che l'organizzazione sono le persone. Quindi se si arricchisce l'organizzazione, si arricchiscono le persone. Ovviamente si arricchiscono in maniera immateriale come scopi raggiunti, come attività fatte per il bene sociale e per, diciamo così, lo sviluppo del campo in cui operano. Ma non è che si arricchiscono monetariamente. Detto questo, non è che se si arricchisce l'organizzazione si arricchiscono le persone. E detto questo, non è che l'organizzazione non si deve arricchire, anzi, bisogna trovare il modo di far sì che queste organizzazioni marciano con le proprie gambe, che camminino, che abbiano un fondo, che abbiano una minima riserva alla quale attingere se devono avere dei progetti e non trovano sufficienti fondi. Perché magari il progetto precedente è andato così bene che ci si può permettere di creare un altro progetto, magari più rischioso, perché si ha una base di partenza, una certa solidità. E anche qui ritorniamo, la retorica dell'immagine delle organizzazioni non profit che devono sempre fare delle cose dove ci rientriamo, non possiamo mai rischiare perché poi chi ce le paga, perché poi è sempre a rimessa. Questa è una retorica che va cambiata. Altra retorica. I progetti culturali sono sempre su base volontaria e non c'è professionalità. C'è sempre volontariato e il volontariato non è professionalizzante. Se io entro in un'attività, in un'organizzazione non profit, non arricchisco la mia professionalità perché è tutto volontariato. È un errore. L'attività non profit, l'organizzazione non profit, non è che non consente di professionalizzarsi, non è che non consente la crescita professionale di un soggetto, anzi, in Italia, se vogliamo fare arte, soprattutto arte contemporanea, bisogna farlo attraverso un soggetto no profit. Chi lo dice che non ci si specializza in questo contesto? È una retorica dell'immagine sbagliata. Va bene si fa per volontariato, nel senso che comunque non ho un ritorno da proprietario di azioni di una SPA quotata. Non ho di certo, non possiamo pensarci così. Però non è nemmeno da dire che la partecipazione a un'attività no profit deve essere fatta nel tempo libero. C'è chi ne fa una professione ed è giusto che sia così. Anche questa è una retorica dell'arte sbagliata. Qual è la retorica ultima dell'arte e della cultura? Come diceva il nostro ex ministro delle finanze e dell'economia, con la cultura non si mangia. Ma per davvero? Ma via. Cioè, siamo seri. Con la cultura ci si mangia e come? Ci sono fiorfiori di imprenditori che si sono arricchiti con la cultura. Il problema è che tipo di modalità vogliamo mettere in campo? Che tipo di direzione vogliamo far perseguire la nostra organizzazione? Che tipo di struttura vogliamo dare? Non è che con la cultura non si mangia, è che fino ad adesso una certa retorica, una certa immagine che è stata data a tutto il terzo settore, a tutto il settore no profit, comporta che questa sia l'idea imperante. Con la cultura non si mangia. Se vuoi lavorare con la cultura sei un volontario. Ma no, non è vero. E la legge mette a disposizione gli strumenti. Come avvocato e come fundraiser, io credo fortemente nel fatto che si può attuare un modello virtuoso di autosostentamento, che non sempre sia derivante dal doversi appoggiare a qualcuno di più forte per creare i propri progetti. Anche lì. Vogliamo finalmente dire che se impostato in maniera corretta la sponsorizzazione non è peccato? Non è reato? Che se chiesti fondi nella materia corretta e se trovato un modo di collaborare in maniera che nessuno dei due soggetti perda la propria natura non è reato collaborare? Cioè, questo è importante. È importante perché consente a un soggetto che sa qual è la propria struttura, che si organizza in maniera efficiente, che crede in quello che fa e non crede che questo sia il dopo lavoro, ma il proprio lavoro, tutto questo consente che i soggetti crescano e questa retorica, a mio avviso sbagliata, venga cambiata. Noi siamo un paese che crede che tutto quello che è no profit si basi sulla buona volontà e la beneficenza. Bene. Può andarmi bene, ma le charities in Inghilterra non sono certo improvvisate, non danno certo lavoro ai soggetti. Anzi, voglio dire, sono organizzazioni che hanno una struttura molto forte, molto organizzata, hanno una serie di membri più o meno stabili, ma che sono inquadrati e che hanno lavoro grazie alla loro professionalità nei progetti culturali. Questo è importante. Ed è importante che anche in Italia venga riscoperto questo ruolo. Cosa abbiamo scoperto noi dalla pratica, da gente che in maniera del tutto spontanea e piena di energie ha creato col tempo, con grandi sacrifici. Abbiamo scoperto che in realtà il settore no profit, il terzo settore, come lo volete chiamare, le organizzazioni no profit, hanno portato in Italia, nel nostro paese, un altissimo livello di innovazione, hanno portato in qualche modo uno sviluppo di piccole e medie imprese. Perché ci sono stati degli spin off, ci sono stati dei soggetti che a un certo punto hanno deciso che quello che facevano non era soltanto un'attività no profit, ma poteva essere anche declinata magari in un altro modo un'attività imprenditoriale, magari nel turismo, magari nell'organizzazione di eventi particolari. perché no? Allora, abbiamo scoperto che attraverso le organizzazioni no profit riuscivamo ad avere uno sviluppo locale, che riuscivamo a dare un'attrattività dei luoghi. Quante città, quanti percorsi hanno, diciamo così, sono stati evidenziati alle opinioni pubbliche perché c'era un'attività no profit, perché c'era un'organizzazione, un gruppo di artisti, un gruppo di persone innamorate di un luogo piuttosto che di un progetto che hanno dato luce a dei percorsi, a delle mete turistiche. Quanto oggi ci piace andare in giro e vedere il design, il fab lab, quanto ci piace andare in giro e vedere i percorsi alternativi alla riscoperta dei piccoli musei locali, alla scoperta di bellezze naturali, i soggetti che non hanno più lavoro perché il ministero non li può assumere archeologi laureati che creano dei percorsi, dei laboratori didattici in un determinato sito praticamente abbandonato. Ci piace tantissimo questa cosa, siamo alla ricerca, se non ci fosse in questo momento tutta questa serie di progetti, il nostro turismo ne risentirebbe come. Questo è solo un piccolo esempio di come effettivamente il settore no profit ha creato, ha avuto uno sviluppo, ha dato sviluppo, ha dato energie ad un settore che effettivamente in questo momento aveva bisogno di essere rivitalizzato perché va bene il Colosseo, va bene gli uffizi, io sono di Firenze quindi figurarsi, va bene tutto, però in questo momento il turista ha bisogno anche un po' di altro e quindi a Firenze è vero che si viene per gli uffizi però se si danno delle chicche e l'artigianato e viene a fare la visita in una bottega e allora le nuove, il nuovo artigianato i nuovi makers se volete, quanto sono più attrattivi soprattutto del turismo giovane che si ha voglia di vedere gli uffizi però se gli dai un'aggiunta sono anche più felici di venire a Firenze e questo succede in tutta Italia non solo nella mia realtà quindi ad oggi l'ho anche scritto si stanno diffondendo nuovi modi di fare che ricollano i soggetti che operano nell'ambito dell'arte su un piano di presenza oggettuale non c'è più l'immagine come diceva Pino Pascale abbiamo bisogno che l'oggetto manifesti la sua presenza in quanto oggetto per valutarlo fino in fondo quindi non valutiamo le organizzazioni no profit per quello che secondo noi deve fare un'organizzazione no profit valutiamolo per quello che fa effettivamente perché è solo così che lo mettiamo alla prova se una cosa funziona o non funziona è per quello che fa non per quello che secondo noi dovrebbe fare per l'immagine che ha sui giornali come sempre le organizzazioni no profit ad oggi in Italia hanno creato anche coesione sociale in questo momento in cui siamo così depressi persi c'è una situazione in cui davvero non sappiamo qual è il nostro ruolo nella società fare le cose insieme essere parte di un progetto immediatamente perché si è parte dell'organizzazione o in modo mediato perché siamo i fruitori ultimi o perché siamo parte della comunità in qualche modo coinvolta fa tanto in questo momento dove si sono persi i riferimenti allora in questo momento rivalutiamo l'organizzazione no profit non per quello che ci è stato insegnato dovrebbero fare per l'aurea che hanno ma per quello che fanno effettivamente in questo momento noi abbiamo un diciamo così un ecosistema creativo ci sono una serie di gruppi di persone più o meno strutturati che stanno creando per disperazione o per volontà o perché ci credono fortemente o perché hanno studiato per questo abbiamo un ecosistema creativo una socialità che viene intesa sempre di più come network come rete come sistema di conoscenze siamo tutti quanti un nodo un po' perché oramai siamo abituati ad esserlo con il nuovo utilizzo di internet sappiamo tutti quanti di essere un nodo se io riposto qualcosa sulla mia bacheca di facebook so che gli amici che non sono in comune con la persona che sta organizzando qualcosa i miei amici lo sapranno perché l'ho messo l'ho messo sulla mia bacheca in questo momento tutti quanti sanno e percepiscono l'importanza della rete di essere un nodo della rete lontano o vicino percepiamo che siamo qualcosa che connette ad altri nodi ad altre reti ad altri centri di interesse questo dal mio punto di vista che cos'è? è una garanzia di avere infrastrutture più siamo in rete più siamo in network più abbiamo strumenti perché se io che organizzo un progetto non ho il videoproiettore magari conosco qualcuno che ce l'ha e che probabilmente me lo presta questo a livello base a livello un po' più alto se io ho un progetto e non so se riesco a metterlo in piedi con le mie sole energie probabilmente conosco qualcuno che mi può dare una mano un'altra organizzazione di volontariato un altro gruppo un artista il nodo di una mia rete e allora più ampia è la mia rete più avrò possibilità di realizzare progetti ovviamente quindi in questo momento io ho un ecosistema creativo e lo sento lo so perché lo vedo tutti i giorni lo vivo dall'altra parte le organizzazioni non profit stanno prendendo coscienza del fatto che hanno una dimensione economica perché? perché creano innovazione perché se è fatta bene l'attività possono anche avere un investimento loro interno o da parte di terzi e perché in qualche modo stanno avendo l'esperienza che c'è una competitività guarda che bel progetto che hanno fatto quelli di allora lo voglio fare bello anch'io oppure guarda quel progetto lì che sulla carta non valeva due lire però attraverso questo strumento sono riusciti a raggiungere un sacco di persone bene allora lo voglio lo voglio usare anch'io questo strumento la prossima volta voglio essere anch'io in grado di raggiungere quel pubblico perché se quel pubblico è andato all'altro progetto posso posso anch'io intercettarlo posso averlo anch'io col pubblico la competitività non è vista come un fattore negativo ma come un fattore propositivo positivo se io vedo che qualcuno ha successo nel fare attività come organizzazione no profit forse la voglio fare anch'io forse voglio partecipare a un'altra che penso abbia più potenzialità innovazione investimento e competitività sono sostanzialmente una parte del carattere imprenditoriale di ogni impresa inteso in senso non impresa società ma inteso in senso terminologico un'impresa faccio un'impresa cerco di fare qualcosa di coraggioso di forse pazzo rischioso ma ci provo ci tento è la mia impresa quindi il fatto di essere di fare un'impresa di fare qualcosa di grande di ovviamente grande in un contesto può essere piccolo dipende tutto dal sistema di riferimento ma il mio essere organizzato l'imprenditorialità in senso di organizzazione di struttura sempre di più mi porta a capire come organizzazione non profit che posso se sono strutturata riesco ad avere più innovazione più investimento e a sfruttare meglio la competitività mi posso posizionare si dice nel mio gergo cioè trovo un posto nel contesto mi posiziono il che non significa ribadisco pensare sempre in logica di mercato ma analizzare il contesto un'impresa un imprenditore che cosa fa quando inizia la propria attività si guarda intorno e pensa che ha un sogno cioè quello di fare le scarpe si guarda intorno e cerca di capire chi altro fa le scarpe come le fa quali sono gli esempi positivi quali sono gli esempi negativi che cosa è stato sbagliato da uno che magari il creatore di scarpe non farebbe e comincia ad analizzare la situazione per trovare un proprio posto in quel contesto io mi chiedo ma questa è una cosa sana oppure è tipicamente delle società no è una cosa sana perché allora non farla perché non farla in tutti i contesti perché non farla anche per le attività non profit perché non cominciare a capire dove mi pongo dove funziono quali sono le esperienze positive quali sono le esperienze negative non è mica peccato è una gestione sana delle proprie energie e in tutto questo c'è un'altra retorica da sconfiggere che è quella che anticipavo prima che è la retorica del senza scopo di lucro intendiamoci tecnicamente esistono due lucri il lucro oggettivo e il lucro soggettivo il lucro soggettivo è quello che non deve avere un'attività no profit un'organizzazione no profit perché no profit cosa vuol dire che non c'è profitto no vuol dire che non distribuisco gli utili a chi partecipa all'organizzazione se una società si distingue perché alla fine dell'anno quel che abbiamo guadagnato ce lo dividiamo in parti uguali o a seconda delle quote di società che ognuno ha nel caso dell'organizzazione no profit il lucro il profitto che si ha alla fine dell'anno perché siamo stati bravi perché abbiamo creato progetti che hanno avuto un riscontro perché abbiamo trovato i fondi per mille ragioni io ho un profitto non lo posso distribuire questo vuol dire senza scopo di lucro vuol dire che lo devo reinvestire lo devo mettere dentro di nuovo all'associazione per utilizzarlo per le mie prossime attività questo è il lucro soggettivo l'arricchimento personale egoistico questo è quello che non va fatto nelle attività senza scopo di lucro nelle organizzazioni senza scopo di lucro diverso è il lucro oggettivo ma se io faccio un'attività che va bene se io cerco in qualche modo di senza ovviamente rientrare nei profili fiscali di ente commerciale ovviamente perché ci sono tutta una serie di requisiti da soddisfare perché la legge ti dice io ti do delle agevolazioni fiscali se però tu non mi scrivi no profit e poi alla fine fai profitto questo non va bene ma se io riesco effettivamente ad essere in regola con la gestione fiscale ad essere brava a gestire le mie risorse e riesco alla fine ad avere un minimo di profitto ma qual è il male? qual è il marcio? non c'è anzi contribuisco al fatto che la mia organizzazione avrà domani qualcosina da parte per fare un progetto magari più ampio più rischioso dove forse avrò meno possibilità di trovare fondi questo è importante ed è un'altra retorica dell'ente no profit non devi fare profitto perché assolutamente non sto dicendo che è facile farlo non sto nemmeno dicendo che è colpa vostra perché non fate profitto se le attività hanno profit no io però sto dicendo che in questo momento nessuno sa qual è il limite qual è l'area entro la quale può muoversi perché c'è una retorica allora in questo momento noi abbiamo bisogno effettivamente di trovare dei soggetti non solo che hanno il coraggio di osare e di fare attività no profit ma soprattutto ed anche di capire quali sono i confini quali sono le attività che uno può fare e come gestire a livello appunto oggettuale senza retorica le proprie attività no profit quindi è bene sapere che c'è la possibilità di fare e di fare bene e bisogna capire in quali limiti muoversi ovviamente questo è fondamentale allora quello che in questo momento il network sta in qualche modo muovendo è la consapevolezza che la struttura paga avere una serie di contatti avere una serie di nodi avere una rete paga paga e l'improvvisazione non paga invece quindi in questo momento le organizzazioni no profit che effettivamente stanno collaborando le une con le altre cercano sempre di più un modo di creare una struttura anche nella rete perché una struttura formale nella rete fa lo stesso che fa una struttura formale all'interno di un'organizzazione dice di chi sono le responsabilità dice chi deve fare cosa e quando dà una una serie di indicazioni di elementi formali su come viene fatta una cosa anche per capire effettivamente se chi lo deve fare lo fa e soprattutto se quella modalità di organizzazione funziona se non funziona se ne rifà un'altra si valuta se quel partner effettivamente funziona con quel ruolo dato o se va cambiato allora in questo momento la rete che cosa fa rivaluta il soggetto nella sua presenza oggettuale al di là della retorica dell'immagine se io in questo momento nella rete ho bisogno di un soggetto valuto quello che fa non valuto che cos'è anche in questo caso il network aiuta a eliminare la retorica se io creo un network tra non so una società che vuole creare un certo tipo di progetto e dentro però non ha le competenze per farlo e crea una rete in cui effettivamente chi si occupa della realizzazione è un altro soggetto magari di un altro tipo non commerciale magari un antino profit quel soggetto valuta che cosa fa in quel momento l'antino profit non se è no profit o no valuta che cosa fa se è strutturato bene se ha le potenzialità e le energie per adempiere il ruolo che gli vuole dare e così una rete tra soli soggetti no profit evidentemente è una rete tra soggetti che si sono valutati che hanno cercato di capire effettivamente che cosa si fa quindi anche da questo punto di vista secondo me in questo momento la rete i network contribuiscono a sgombrare il campo da equivoci retorici sull'immagine che ha il no profit nel mondo o quantomeno nel mondo italiano allora quali sono le virtù dei network secondo me innanzitutto le virtù dei network sono la possibilità di avere una struttura aperta la struttura aperta rende possibile e più facile ovviamente la progressiva partecipazione di altri soggetti con interessi coincidenti o attività similari che è una bella definizione ora ve la spiego il network normalmente è una struttura mobile le reti sono tali perché si possono aggiungere dei nodi perché hanno l'intenzione di avere la ampiezza più larga possibile perché sono costituiti da soggetti che a loro volta arricchiscono i loro legami e quindi sono strutture mobili per definizione sono strutture che cambiano che si allargano che si arricchiscono che diciamo così seguono quella che è la fluidità del momento alcuni nodi possono venire a mancare se ne creano degli altri i network a livello formale e di struttura possono seguire questa valenza possono consentire di essere una struttura aperta oggigiorno quello che io noto nel mondo del no profit è che effettivamente quello che succede è che se qualcuno ha un'idea si crea un nuovo soggetto no profit perché deve essere controllata il progetto deve essere nostro deve essere un'attività che comunque controlliamo noi quindi si creano una miriade di associazioni senza personalità giuridiche piuttosto che altri tipi di enti no profit per controllare meglio il progetto qual è poi il problema che tutte queste associazioni a un certo punto della loro vita dopo un anno normalmente dopo due cominciano a guardarsi intorno perché hanno dei problemi sono partiti molto di slancio ma vogliono continuare allora o si chiude per poi aprire una nuova associazione sbagliato male non si fa lo dico sia da legale sia da fundraiser lo dico come cittadina lo dico come tutto veramente è sbagliato si inizia qualcosa e si chiude quando è finito il progetto ma allora l'ente no profit non avevamo detto che era un ente che non aveva profitto ma aveva uno scopo ideale e lo scopo ideale qual era? finire il progetto? no non ci siamo lo scopo ideale cos'è? la diffusione dell'arte contemporanea e cosa si fa con un solo progetto no? sbagliato cioè la finalità di un ente no profit è quello di avere uno scopo ideale che deve servire per tutti deve essere un servizio utile un bene utile a tutti che utilità abbiamo se le cose nascono e muoiono come dei funghi che utilità abbiamo se dopo un anno quell'associazione non esiste più non solo è un peccato ma è una scelta di organizzazione sbagliata vuol dire che qualcosa non ha funzionato prima quando si è pensato a che cosa fare qual è il problema? è che a volte quando si decide di avere un progetto entrare in un'associazione che già è nata ha qualche problema ci si sente gli ultimi arrivati non si ha voce in capitolo diciamo così abbastanza come a crearne una propria questo è il problema di fondo non il fatto che non sia accessibile ma il fatto che non si ha un ruolo paritetico con chi ha fondato per esempio l'associazione o almeno anche se questa poi non è la verità ci si sente così qual è la carta vincente dei network delle reti? è che si parla sempre ad un livello paritetico perché ci si vede come oggetti come realtà fattuali come nodi quindi in una rete io vedo te come nodo non come soggetto nuovo o vecchio vedo le tue capacità fattuali andiamo come al solito al di là della retorica dell'immagine non vedo te per come dovresti essere ma vedo te per quello che fai per quello che sei per le tue potenzialità quindi in questo caso hanno una struttura aperta che anche psicologicamente diciamo così rende più facile la partecipazione l'adesione perché ci si sente tutti paritetici altra virtù delle reti le politiche sociali perché normalmente la rete serve per arrivare a un risultato più ampio possibile quindi che coinvolga maggiormente la socialità che le reti perseguono sono una combinazione di politiche produttive e redistributive cosa vuol dire? vuol dire che io non solo produco qualcosa ma lo produco in un'ottica di dare a tutti un beneficio perché ritorno a dire perché il mio scopo è ideale perché se io lavoro affinché ci sia lo sviluppo la conoscenza la maggiore conoscibilità dell'arte contemporanea e io faccio un progetto e svolgo un'attività io non solo produco qualcosa produco un workshop produco un laboratorio produco un corso produco qualcosa ma redistribuisco coinvolgo do a tutti qualcosa di quello che faccio e allora le mie attività come rete perché riesco a redistribuire in modo più ampio possibile vengono valutate in maniera più positiva altra virtù delle reti è che c'è un maggior coinvolgimento nella gestione ovviamente se siamo tutti pari non è che tu gestisci e io penso no tutti gestiamo tutti partecipiamo e non c'è una scelta imposta dall'alto non c'è un livello piramidale nella progettazione c'è un livello consensuale se siamo pari tutti quanti se siamo tutti parte di una rete e facciamo parte di questa rete non perché vuoi da me solo la comunicazione ma anche se tu volessi solo la comunicazione quello che decidiamo lo decidiamo insieme poi io ho un ruolo che è quello della comunicazione però siccome devo anche io partecipare alla scelta vengo contattata come parte di una rete produttiva che fa qualcosa allora anch'io gestisco e creo e la mia scelta è consensuale vale tanto quanto la tua ovviamente qual è un'altra potenzialità della rete è che ad oggi le reti praticamente nell'analisi fattuale dei processi di informazione evitano le asimmetrie informative cosa vuol dire vuol dire che io non ti investo di un ruolo senza darti tutto il quadro del progetto perché non funziona così perché non sei il soggetto che io incarico dall'alto di fare qualcosa siamo parte di una rete di nuovo e quindi tutti sanno cosa stiamo facendo e non solo tutti sanno che cosa stiamo facendo ma ti è chiaro anche che quello che fai te è direttamente connesso con quello che fa un altro quindi se tu in qualche modo ritardi sbagli sbagli anche l'altro gioco forza perché siamo tutti collegati quindi c'è una responsabilizzazione maggiore e non c'è un comportamento opportunistico perché perché se io faccio parte di una rete e siamo tutti pari poi il negativo va su tutti non è che io mi approfitto degli altri ovviamente ma ho sono incoraggiato ad avere un atteggiamento altruistico di cooperazione e questo è un comportamento che io ritengo sia anche indotto dalla struttura che si sceglie io questa è una cosa che io dico da legale da avvocato e ci credo molto se non avrei fatto giurisprudenza è che le forme legali sono come delle scatole il contenuto è importante ma se si trova una scatola troppo grande per il contenuto il contenuto rischia di perdersi di sbatacchiare nei trasporti di non essere ben protetto dalla scatola la scatola aiuta anche il contenuto se io trovo una bella scatola per un regalo il regalo fa miglior figura diciamo così in qualche modo abbellisce il contenuto allora se io cerco tutta una serie di benefici che mi vengono dati dalle reti la rete indietro mi dà qualcosa per l'appunto il meccanismo della rete incoraggia determinate attitudini dei soggetti ovviamente questo non succede sempre perché si mette una si appiccica un'etichetta questa è una rete quindi deve andare bene per forza questo non responsabilizza i soggetti attenzione però contribuisce se voi trovate una struttura che vi va bene che vi si mette addosso come un vestito giusto tagliato giusto che contiene il vostro contenuto nella maniera più idonea avrete un beneficio da quel tipo di abito o scatola scelti ovviamente in questo caso le reti se scelte in maniera opportuna e se costruite bene vi danno questi tipi di surplus altra cosa le reti danno un'importanza anche al processo è fondamentale la rete per funzionare bene deve avere un buon processo se no non funziona ma questo gioco forza se uno costruisce una rete e il processo non va bene la rete non funziona perché la rete è fatta in modo tale che se non si gestisce da subito bene il processo è fallace altro sul plus della scatola scelta della struttura scelta vi dice subito se una cosa non funziona la rete ve lo dice subito perché si staccano i collegamenti non si capisce chi deve fare cosa se il processo non è fatto bene non va bene la rete grossa responsabilità però dall'altra parte grosso impatto positivo lo vedete da subito se uno ha un po' il polso della situazione non lo capisce il processo non va bene va rivisto si tira su una mano si dice alt fermi tutti non va bene il processo abbiamo necessità di guardarci tutti quanti negli occhi e di rielaborare il processo perché altrimenti non ce la facciamo le rete inoltre fanno una cosa che a mio modo di vedere è importantissima cioè danno una certezza una determinatezza da prima ex ante cioè prima di iniziare sai chi deve fare cosa eh già ma è anche flessibile se vediamo che il processo non funziona la rete mi consente proprio perché non è una struttura gerarchica non è una struttura che devo registrare poi lo statuto lo devo cambiare devo cambiare i ruoli è un po' un macello allora che cosa succede che la rete mi consente di essere flessibile se il contesto cambia se vedo che qualcosa non funziona anche per progetti diversi da quelli che erano stati pensati all'inizio per quella rete c'è una flessibilità nel mentre che altri tipi di strutture non hanno o che comunque la rete diciamo così incoraggia di più a pensare se non funziona qualcosa non è da prendere l'associazione e buttarla nel cestino ma si può rivedere il processo di rete si può rivedere l'organizzazione di rete questo è più nella nostra mentalità la rete la possiamo modificare l'associazione se non va bene se ne deve fare una nuova purtroppo questa è l'immaginazione la retorica che abbiamo la rete serve a scavalcare questo tipo di retorica questo tipo di ostacolo mentale che abbiamo infine la durata siccome la rete nasce se strutturata non le reti del tipo io conosco te te conosci me collaboriamo ma la rete strutturata dove ognuno si dà un ruolo per fare qualcosa hanno tendenzialmente una durata media se non medio lunga perché l'idea è quella di collaborare in una maniera continuativa allora se io devo pensare a te come un soggetto con il quale devo collaborare per un po' ci penso di nuovo ti valuto cerco di capire qual è effettivamente il tuo ruolo cerco di capire quali sono le tue risorse le tue energie cerco di capire effettivamente cosa mi puoi dare e viceversa anche l'altro ovviamente farà le stesse valutazioni quindi in questo senso più che cercare un fine comune per costruire una struttura un'organizzazione non profit la rete incoraggia una valutazione fattuale dell'oggetto dell'altra organizzazione o del soggetto con il quale voglio collaborare e questo è importante perché mi consente di fare tutta una serie di valutazioni che in qualche modo non farei se dovessi fare un'associazione a mio avviso o comunque che nell'esperienza che ho effettivamente vedo non così usuale fare si fa un'associazione perché abbiamo quest'idea in comune non abbiamo ancora effettivamente ben capito tu che ruolo avrai come ci struttureremo poi vediamo invece la rete e ribadisco qui l'importanza di cercare una struttura che ti incoraggia anche a fare dei ragionamenti prospettici dei ragionamenti in più la rete gioco forza siccome ti metti a fare una relazione che in qualche modo ha una base un valore perché non è da tutti i giorni fare una rete strutturata mi incoraggia a fare delle valutazioni in più rispetto al soggetto con il quale voglio fare una rete in tutto questo arrivo a quello che è la mia specializzazione di oggi cioè come avvocato io vi ho detto dall'inizio che secondo me in questo momento quello che è la percezione è che la legge non stia seguendo quelle che sono le istanze attuali vale a dire la legge non consente poi alla fine di riuscire a far strutturare delle reti tra soggetti non profit in realtà non è vero ci sono dei meccanismi che consentono la strutturazione di network di formalizzare una struttura sono due essenzialmente sono le reti i contratti di rete e le fondazioni di partecipazione vi parlerò sostanzialmente di questi due modelli non sono modelli semplici su questo ha ragione chi dice che la legge in qualche modo non sta seguendo le istanze perché il legislatore quando ha creato diciamo così quando si è reso conto dell'importanza del terzo settore ha fatto tutta una serie di legislazioni che consentissero ai soggetti che volevano mettere le proprie energie in questo settore di avere delle agevolazioni in questo senso devo dire che la legge stenta un po' a seguire effettivamente quello che la società il terzo settore sta chiedendo a gran voce organizzandosi per i fatti propri evidentemente cioè esistono reti che in questo momento non sono tipizzate dalla rete ma che esistono però se ci guardiamo dentro con attenzione secondo me troviamo delle buone opportunità che magari non tutti possono sfruttare ma che effettivamente possono essere di buono stimolo o utili per molti soggetti allora io qui vi ho messo la ADI che è l'associazione del design italiano che ogni anno dà un premio prestigiosissimo che si chiama il compasso d'oro al miglior designer al miglior progetto di design italiano vi ho messo la fondazione Pier Lombardo che è la fondazione sostanzialmente che regola l'attività del teatro Franco Parenti e vi ho messo la fondazione Arezzo Wave Italia cosa sono queste tre diciamo così organizzazioni sono tutte fondazioni di partecipazione allora la fondazione di partecipazione è un modello di fondazione atipico cosa vuol dire vuol dire che non è stato disciplinato dal legislatore è nato dalla prassi vale a dire che noi abbiamo due figure fondamentali diciamo così tra gli enti che vengono chiamati dagli avvocati gli enti che trovano la propria disciplina nel primo libro del codice civile sono le associazioni e le fondazioni e sono sostanzialmente le forme base degli enti no profit in questo momento nel nostro ordinamento italiano e che sono quelle che sono nate all'inizio proprio quando è stato varato il codice civile quindi sono le forme più antiche e per questo forse meno preparate alle sfide attuali evidentemente quindi ci sono state tutta una serie di prassi e tutta una serie di leggi che hanno regolamentato con l'andare del tempo le attività di associazioni e fondazioni in questo caso la fondazione di partecipazione è nata perché perché un notaio di Milano il notaio Enrico Bellezza ha pensato che effettivamente ci fosse un bisogno ci fosse il bisogno per certi enti di essere fondazioni ma di avere un surplus perché le fondazioni sono un patrimonio destinato a uno scopo cioè si prende una somma di denaro o dei beni e si mettono da una parte gestiti da un consiglio di amministrazione normalmente della fondazione per uno scopo uno scopo ideale uno scopo diciamo utile a tutti di fruizione comune questo consente di avere un soggetto che effettivamente ha delle risorse e che ha delle attività o che comunque mette in pista delle attività dei progetti per il bene comune qual era il problema è che le fondazioni nascono e muoiono così come sono cioè un fondatore un soggetto piuttosto che una società che le crea dando un patrimonio e poi basta non succede più niente il consiglio di amministrazione ha delle regole a cui si deve attenere e la fondazione rimane così che cosa ha fatto il notario bellezza? ha deciso che effettivamente mancava qualcosa mancava l'elemento personale l'elemento di partecipazione le fondazioni erano delle sostanzialmente delle torri costruite su determinate fondamenta e non potevano più allargare la loro struttura non potevano più coinvolgere nessuno in un momento in cui invece forse sarebbe proprio servito il fattore del coinvolgimento della partecipazione che è tipico delle associazioni perché le associazioni sono un gruppo di persone che mettono le proprie risorse umane di energie di piccoli contributi in denaro per raggiungere uno scopo comune allora cos'è che lega questi due soggetti? si raggiunge uno scopo uno scopo comune di interesse diciamo così ampio generale non un interesse personale egoistico un fine altruistico si dice quindi questi due soggetti avevano un fine comune e allora lui ha pensato di fonderli di fonderli in maniera tale che l'elemento personale delle associazioni cioè il fatto di poter entrare di costituire un gruppo fosse accompagnato dall'elemento patrimoniale cioè qualcuno che dà un patrimonio poi se qualcuno vuole partecipare lo può fare non rimane quel patrimonio lì isolato come un faro si può raggiungere si può partecipare a quello scopo in maniera ampia allora il patrimonio di destinazione della fondazione di partecipazione sostanzialmente è implementabile vale a dire i fondatori iniziali che vengono chiamati promotori fondatori promotori cioè quelli che iniziano danno un patrimonio indicano che danno x tot che può essere appunto beni può essere un immobile può essere una somma di denaro diciamo può essere varia la composizione del patrimonio per far sì che venga perseguito uno scopo comune poi però siccome sappiamo che la partecipazione la rete il network è la parte fondamentale di quello che è il raggiungimento dello scopo comune del fine altruistico consento a dei soggetti di entrare nella fondazione e come faccio faccio sì che nel tempo i soggetti possano bussare alla porta della fondazione e chiedere di partecipare quindi il diciamo lo statuto il regolamento della fondazione lo statuto è dove si trovano le regole della fondazione e anche dell'associazione diciamo così è un contiene le regole attraverso le quali consentire l'ingresso perché evidentemente una fondazione che persegue un determinato scopo non so la diffusione del bungee jumping non può avere al suo interno un soggetto che fa assistenza sociale agli anziani oddio si possono anche provare a puttare gli anziani però insomma diciamo che hanno delle difficoltà di fondo e comunque non posso pensare di fare entrare una fondazione di partecipazione per il bungee jumping qualcuno che non è assolutamente fautore del bungee jumping questo è ovvio quindi ci saranno delle limitazioni non di tipo soggettivo ma di tipo sei d'accordo con il mio statuto sei d'accordo con il mio scopo sei d'accordo di come metterò a frutto il mio patrimonio allora puoi entrare tu che cosa mi dai in cambio perché anche su questo c'è una differenziazione che secondo me è brillante cioè le fondazioni di partecipazione creano dei diciamo così delle classi di partecipanti ci sono i partecipanti e ci sono i sostenitori cosa vuol dire vuol dire che io ho qualcuno che viene da me e mi chiede di entrare per rimanere per condividere le attività tutte della fondazione poi ci sono dei soggetti che invece contribuiscono via via a uno o più progetti cioè vengono da me e mi dicono mi piace l'idea del bungee jumping sulle dighe abbandonate del fiume X perché io faccio parte del parco naturale che cura anche queste dighe e voglio fare qualcosa con te ovviamente sarà qualcosa che è su quella zona geografica quindi io sarò sostenitore e quindi parteciperò non a tutte le tue attività sul bungee jumping ma solo a quelle che sono in qualche modo in connessione con me quindi in questo caso riesco a consentire la partecipazione anche strutturando le attività anche dicendo effettivamente che cosa voglio che tu faccia per me voglio che tu rimanga per sempre per condividere tutte le mie attività oppure voglio che tu mi dia il tuo buono per quel progetto perché possiamo effettivamente mischiare le nostre competenze possiamo effettivamente darci una mano l'uno con l'altro su quel progetto evidentemente e non su tutta l'attività in questo caso cosa significa? significa che si parla degli anni 90 è nata negli anni 90 anche gli enti pubblici avevano più possibilità di aderire a una rete di questo tipo a un organismo di questo tipo perché? perché non era vincolato perché non doveva dare una somma di denaro per creare una fondazione con tutto quel che ne comportava la formalità la struttura la necessità di garantire nel tempo che quella fondazione facesse le attività nel modo giusto poteva anche essere un sostenitore allora una fondazione faceva qualcosa di utile per il comune di Milano piuttosto che di Firenze e a quel punto l'ente pubblico aveva più facilità ad aderire alla rete nel caso lo volesse fare perché? c'è una strutturazione dei ruoli e perché non mi vincolo così fortemente la rete è fluida consente l'accesso l'accesso è aperto e quello che viene strutturato è l'apporto valutato oggettivamente e per questa ragione io creo tutta una serie di diversificazioni ex ante la determinatezza ex ante prima di iniziare io vi dico che ci saranno delle strutturazioni e delle classificazioni di ruolo e dall'altra parte crea una fluidità perché ci potrà essere l'ingresso come l'uscita ci potrà essere il sostegno per un progetto piuttosto che per un altro e consentirò di essere fluida alla fondazione soprattutto tutte le volte di contarsi e di vedere ma ce la faccio da sola posso andare a sollecitare un soggetto chiedendo il suo sostegno posso effettivamente domandare a un soggetto sollecitare un soggetto e dire guarda non ti legherai con me per tutta la vita non ti preoccupare però su questo progetto ci stai io ti garantisco questo che è la mia struttura le mie competenze le mie risorse da te voglio quest'altro e per questo singolo progetto per questa serie di progetti oppure ti dico guarda tu stai facendo un'attività veramente degna facciamola insieme partecipa alla mia attività sii un soggetto partecipante prendi le decisioni con me accompagnami in tutto il mio percorso perché questo mi interessa e perché questo effettivamente è quello che voglio e in tutto questo consento a me fondazione di partecipazione di contare su risorse economiche diciamo così costanti perché se non trovo partecipanti che vogliono stare con me tutta la vita magari trovo due sostenitori ogni biennio che mi garantiscono un apporto per singoli progetti va bene magari non porterò avanti un progetto che voglio fare ma non trovo sostenitori ok ma intanto ti sostieni intanto il tuo nome circola intanto non sei un soggetto che nasce che muore nell'arco di un anno perché porti avanti un solo progetto crei una rete non solo crei una rete ma crei anche un buon nome una buona reputazione della rete perché soggetti che sono stati sostenitori con te tuoi sostenitori possono un giorno decidere di essere partecipanti perché hanno visto che lavori bene perché magari in qualche modo stanno cercando di trovare un soggetto più ampio magari con una base un po' più solida per collaborare per fare altre cose è un un circolo virtuoso in cui si crea qualcosa si persegue il fine e mano a mano si verifica il contesto torno a dire non è che fare impresa è una cosa che fa peccato se si prendono le pratiche buone le giuste pratiche dell'impresa cosa fa un'impresa? tutti gli anni valuta come sono andate le sue attività valuta il contesto ma è ancora adatto lo gioccolo piuttosto che lo stivale cosa fa? valuta come sono andate le cose per fare cosa? per migliorarsi l'anno dopo ovviamente allora nessuno pensa che l'attività no profit debba valutare il mercato ma che debba fare un'analisi di contesto e capire come certe cose vadano presentate con che partner se è meglio una rete se è meglio una struttura quello sì quello è essenziale e trovo che sia quello che in questo momento un po' di più manca al terzo settore questo perché per l'appunto c'è una retorica della non professionalizzazione cioè si fa qualcosa che è no profit perché si fa per il bene comune e alla fine si fa perché ci piace perché io non ho lavoro ancora e magari mentre lo cerco ho fatto no non è così non è serio se si fa un'attività no profit non è che si fa un'attività che un giorno si lancia e il giorno dopo si ritira perché ci siamo stufati ho trovato lavoro quello è il lavoro quella è l'impatto che si cerca quella è l'attività della propria vita evidentemente accompagnato o meno da qualcosa ma ci deve essere una responsabilità quando si apre un soggetto quando si crea qualcosa non può essere tutto sempre così improvvisato perché si vuole fare lo facciamo lo facciamo perché è bello farlo perché abbiamo un fine ideale un fine altruistico è vero ma questo non consente non giustifica che poi l'anno dopo non si fa più cioè ci deve essere una responsabilizzazione dei soggetti che si prendono in carico è vero questo cose che magari in questo momento la società dovrebbe sostenere dovrebbe fare lo Stato dovrebbe sovvenzionare bene siamo in una situazione in cui non lo fa lo deve fare il cittadino bene ma il cittadino però quando lo fa e crea una struttura non fa il donatore che dà ogni tanto i soldi quella è un'altra cosa non fa il volontario che dice io ci sono due ore a settimana poi dopo basta non quello chi crea una struttura chi decide di essere il legale rappresentante ma legale rappresentante vuol dire qualcosa vuol dire che rappresenti una struttura sei la faccia di quella struttura sei il braccio di quella struttura è importante questo è molto importante quindi da questo punto di vista se noi riteniamo che la rete possa avere una utilità per noi per creare effettivamente delle strutture che durano che resistono credo che dalla fondazione di partecipazione anche se è una struttura che ha bisogno delle risorse economiche possiamo però trarre un'ottima lezione che è quella di strutturare i ruoli all'interno di una rete la fondazione di partecipazione non è per tutti questo è ovvio non è un network che è utile per tutti accessibile per tutti ci vogliono delle risorse va strutturato bene ci vogliono delle buone energie di partenza quindi non è per tutti però ha fatto una cosa egregia ha diversificato siamo tutti pari ma dipende per cosa siamo pari in cosa siamo pari nell'attività generale siamo pari in un progetto siamo partecipanti siamo sostenitori cosa siamo siamo promotori questo è importante ed è secondo me una cosa che in tutte le reti anche quelle non strutturate legalmente andrebbe fatto andrebbe capito per che cosa chiediamo di essere pari e in che cosa ci vogliamo impegnare perché questo è l'importante secondo me bene ora vi ho ammazzato tutti quindi direi dieci minuti per un caffè e ci rivediamo grazie a tutti Grazie a tutti.